Oggi ho una splendida sequenza per aiutarti a sciogliere la parte alta della schiena e specialmente la zona tra le scapole. Ti ci vorranno davvero pochissimi minuti quindi raggiungimi qui a gambe incrociate e oggi iniziamo intrecciando il braccio destro sopra il sinistro e portando le mani nella posizione della preghiera. Da questa posizione inizia a sollevare e abbassare le braccia massaggiando la zona tra le scapole. Cerca di rimanere dritto con la schiena e continua con questo movimento per qualche secondo. Segui il percorso dell'aria che entra ed esce dal naso, senti il collo sciolto, senti questo dolce massaggio tra le scapole. E ora sciogliendo la posizione allarga le braccia come se stessi dando un grande abbraccio dritto davanti a te. Inspira e espira, braccio sinistro si intreccia sul destro, andiamo a portare le mani ancora una volta in questa posizione, una sorta di preghiera con le mani e solleveremo e abbasseremo le braccia per qualche secondo. Anche qui cercando di creare spazio tra le scapole, cercando di rimanere lunghissimi nella schiena. Cerca di sciogliere il collo. Senti la testa allineata alla colonna vertebrale. permetti al tuo petto di espanderti quando inspiri e di rilassarsi quando espiri. E ovviamente scegli il ritmo che fa per te oggi con le tue braccia. Ora sciogli la posizione, apriti nuovamente, immagina di dare un grande abbraccio qui davanti a te. Inspira ed espirando sciogliamo tutto per arrivare seduti sui talloni. Una volta arrivato qui, intreccio le mani dietro la schiena. Inspirando, allontaniamo le braccia dalla schiena e guardiamo su verso l'alto, spalle rilassate. Espirando, sciogliamo la posizione arrotondando la schiena. Di nuovo inspiro, allontano, guardo su, allungo bene le braccia, provo a sollevarle un po' di più. espiro, sciolgo, lentamente. E ancora inspiro, provo a trovare un po' più di spazio, sono un po' più attivo nelle braccia, sento il petto che si apre. Espiro, sciolgo. Una bella contrazione, mi espando nello spazio tra le scapole ancora una volta, inspiro, inarco. guardo su, braccia che si allontanano ancora di più ed espiro arrotondo. Sciogliendo anche questa posizione andiamo ora ad afferrare i gomiti, li portiamo qui sopra la testa. Immaginiamo di aprirci, inarcando la schiena. Teniamo il mento abbastanza vicino al petto per non forzare la zona cervicale e creiamo spazio qui nelle spalle. Proviamo a spingere il petto verso l'alto. Restiamo per qualche secondo, se qui tutto ok, possiamo provare a spostare lo sguardo verso l'alto, andare un po' più a fondo per gli ultimi secondi. 5, 4, 3, 2, 1 e sciolgo. Mani a terra. Puntiamo i piedi qui sotto, stendiamo le gambe, iniziando a portare le mani qui vicino ai piedi e una volta arrivati in questa dolce flessione in avanti dove le ginocchia possono ovviamente rimanere anche piegate, intrecciamo le mani dietro la schiena. Proviamo ad allontanare le braccia dalla schiena. Le gambe possono rimanere piegate per ora. Butto fuori tutta l'aria. Immagino di avvicinare l'addome alle gambe, il petto alle gambe, la testa alle ginocchia. Inspirando, stendo completamente le gambe e piego. guardo avanti. Braccia che si rilassano leggermente e di nuovo stendo, allungo e spiro. Piego, guardo avanti e stendo. Mi allungo un po' di più e piego. Sguardo dritto davanti a noi. Un'ultima volta. Stendo le gambe, allontano le braccia, provo a trovare ancora più spazio qui e resto per cinque, quattro, tre. Trovo ancora più spazio per gli ultimi due e uno. Sciolgo la posizione. Ritorniamo a terra. Ci possiamo sedere a gambe incrociate. Da qui porteremo il braccio destro verso il lato sinistro. Rilassiamo la spalla. Andiamo a sollevarla e abbassarla dolcemente. La schiena rimane lunga. La testa si può inclinare verso sinistra. Anche qui ascolta ciò che ti fa stare bene. Cerca di rilassarti a fondo. sciogli, cambia lato. Facciamo cadere la testa dolcemente a destra. Spalla che si solleva e si abbassa. Un bel massaggio qui per gli ultimi secondi di questa pratica. Respira. Sciogli tutte le resistenze. E lentamente ritorna al centro. Sciogli un po' le braccia. Questo conclude la sequenza di oggi. Spero tanto che ti sia piaciuta. Come vedi ci vogliono veramente pochissimi minuti ma che possono fare una grandissima differenza nella tua giornata. Quindi continua a tornare qui. Puoi farlo la mattina o la sera. Vedrai che le spalle si scioglieranno incredibilmente così come la parte alta della schiena. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se vuoi seguire tutte le mie lezioni complete le trovi in Kaioga. Il link è qui sotto. A presto.